salve a tutti bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere così l'errore riguardo a discord che quando vai ad avviarlo sta facendo l'aggiornamento poi dice fallito quindi riprova tra 10 secondi ma continua e continua a fare questo aggiornamento e fallisce quindi va in loop quindi per risolvere così questo tipo di problema come puoi vedere questa è l'immagine di discord che ti esce quindi aggiornamento fallito quindi riprova tra 10 secondi quindi andiamo direttamente sul nostro discord quindi puoi direttamente avviare discord come amministratore come primo metodo quindi vai a scrivere discord qua sopra tasto destro sopra e vai su esegui come amministratore e vedere se fa l'aggiornamento senza fare nessun fallimento quindi una volta fatto scriviamo di nuovo discord qua sopra e andiamo direttamente su apri percorso file tasto destro sopra apri percorso file questo è l'aggiornamento update se non dovesse funzionare puoi sempre fare tasto destro sopra esegui come amministratore e aggiornare windows discord eseguendolo come amministratore oppure puoi direttamente scrivere mostra altre opzioni rinomina scrivi hold trattino basso update e fai esegui come amministratore se non dovesse funzionare puoi sempre rimuovere hold e fa rimanere solamente update come ultimo passaggio invece andiamo direttamente su tasto windows più r per aprire così la schedina esegui se vi esegui qua scrivi qui per cento app data per cento fai ok vai direttamente su app data vai su local scendi fino a giù fino a trovare la cartella cache cancella così la cartella cache se c'è anche quella cartella di discord cancella la cartella di disco sono 458 megabyte se andiamo così a cancellare ripristiniamo discord poi dobbiamo rifare l'accesso con il nostro account di discord quindi andiamo così a cancellare la cartella discord faccio dice così riprova perché c'è discord che è aperto facciamo quit discord e facciamo riprova una volta fatto vai su app data vai su local o vedi se c'è anche discord qua dentro vai su app data vai su roaming se c'è discord qua dentro cancella la cartella discord 738 megabyte svuota anche il cestino una volta fatto quello che ti resta da fare è andare su discord e seguirlo come amministratore abbiamo cancellato così la cartella di discord in app data andiamo di nuovo a riscaricarlo riscarichiamo così discord ed ecco discord discord si è aperto senza problemi quindi quello che abbiamo fatto è fare un ripristino direttamente nella cartella di discord cancellando anche tutte le cache tutti i file accumulati nel tempo nel nostro computer abbiamo anche cancellato direttamente discord in generale però abbiamo fatto di nuovo il download e l'abbiamo reinstallato ed ecco così il mio account su discord quindi se hai altri problemi puoi sempre commentare sotto al video cercherò di realizzare un'altra guida a riguardo iscriviti, lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao